Sai che Drake è stato schiaffeggiato da un altro artista? Tutto è cominciato con l'uscita del pezzo 0200, un pezzo che Drake aveva scritto apposta per donarlo a Puff Daddy, ma che alla fine ha tenuto per sé. I due si sono poi incrociati in una discoteca dopo l'uscita del brano, e Puff Daddy l'ha schiaffeggiato davanti a molti testimoni. A separare i due è intervenuto J. Cole, che ha preso le difese del rapper di Toronto litigando con Puff Daddy. Quest'ultimo ha dichiarato di non aver mai alzato le mani su Drake, quindi adesso saprai rispondere quando ti chiederanno.